E cosa deve avere una recitazione per ambire a un Oscar? Posso dirti quello che io chiedo a un film, è una originalità di racconto insieme a un'originalità di linguaggio. In conclusione cosa vuoi dire per accompagnare la corsa alla candidatura del traditore di Marco Bellocchio che è il film che l'Italia ha scelto per partecipare alla nomination? Io faccio tantissimi auguri, Bellocchio è un regista che amo da quando ero ragazzo, ho avuto la fortuna di lavorarci è un film straordinario a cui auguro veramente di avere la possibilità di riportare dopo ormai un bel po' di anni l'Oscar all'Italia è un film che lo merita secondo me, assolutamente.